A fine anno, 18 bucche, speciale, gold e nemica per due categorie. La raga sarà disputata oggi, premia l'ingegnere Luciano Nicchiarelli che è il presidente del golf club Puntala. Bravo, ingegnere! L'amico Giovanni Ghezzani, rappresentante del club Livorno. Bravo, Giovanni! E l'applauso! E l'interno del italiano, che ha organizzato la proposta, una ventina. Grazie, come dicevo, poi a Giovanni, per il prossimo anno ci sarà un gemellaggio, vi faremo dei prezzi particolari per i Green Free, quindi quando volete... Cioè, i prezzi più, vi faremo magari più. Quindi far qui Green Free e gara, poi, come ne ho detto, se avete intenzione di organizzare delle gare per il vostro club proprio, basta dircelo e il tappo... Iniziamo subito allora, con il secondo mito assoluto per i soci del golf di Livorno, vinto da Alessandra Barbera con 26 punti. Grazie! Grazie! Alessandra, vi facciamo una bella foto alla signora, ecco lì, là! Molto bene! Per il primo netto assoluto, soci sempre del golf di Livorno, Ezio Mori con 28 punti. Bravo! Grazie! Perfetto! Per la classifica generale... Per la classifica generale, primo segno, Massimo Zanardi con 31 punti. Bravo Massimo! Nella seconda categoria, secondo netto, Valerio Pacini con 34 punti. Bravo Valerio, molto bene! E primo netto, dopo una paziente attesa, di seconda categoria, Guido Paolo Camucci con 33 punti. Eccolo qua! Paziente attesa, no! Paziente attesa! Paziente attesa! Paziente attesa! Quattro scala e 18 punti! Un attimo, una foto, una foto, una foto! No, no, no! Il bellista più famoso del nostro, questo è un vincitore assoluto! Indicap fino a 22 punti. Secondo netto, Maurizio Di Tommassi con 31 punti. Bravo Maurizio! Partito! Primo netto, Giovanni Ghezzani con... Bravo Giovanni! Bravo Giovanni! Bravo Giovanni! Una foto! Vai! Vai! Perfetto! Vai! E primo nell'otto, Costantino Totis con... Bravo Costantino! Bravo! Bravo! Costantino prendi il premio! Bene! Una bella foto! La!